con Rita Pavone nel salotto di Roccole ciao Rita ciao Maurilio come stai bene 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 siamo sotto pressione ma è una bella pressione è molto divertente sono molto felice per i risultati che stiamo ottenendo ma è già arrivato il momento in cui hai pensato ma chi me l'ha fatto fare di tornare a Sanremo no guarda ti dirò invece è stata una bella botta di adrenalina molto ha colpito molto forte e poi perché secondo me io prendo questa cosa come come facessi una una sfilata di moda è quella dei cinque giorni a Milano ecco io un bel red carpet c'ho un bellissimo abito che la mia canzone e mi sento bene ma già una volta i critici erano così come dire cattivi come magari lo sono al giorno al giorno d'oggi insomma in questi giorni ma sai cattivi non è che c'è una gran musica nel giorno d'oggi c'era una bella musica una volta ricordo con canzoni che portiamo ieri sera sentendo queste canzoni che andavano di moda in questi 70 anni c'erano veramente ancora delle pagine straordinarie vediamo fra 70 anni tanto ci ritroviamo fra 70 è come no senti invece ci sono tanti giovani al festival di quest'anno ti ci rivedi in qualcuno di loro c'è qualcuno che ha la grinta che avevi tua ma io credo che ognuno porta qualcosa di suo non ci in realtà io non mi ritrovo con nessuno e penso che nessuno si ritrovi in me sono tempi diversi momenti diversi di vita e ognuno trova il suo sbocco la sua maniera per uscire che poi duri o duri di meno questo è quello che deciderà il destino però ognuno di loro porta qualcosa di proprio ed è questa la personalità è quello che fa tutto ho letto che hai dichiarato che non ti sei pentita delle famoso tweet sulla questione dei per gemme ma ho letto anche che ti piacciono i per gemme hai detto ma si ma si ma si ma si confonde quello che uno dice un pensiero io giro il mondo da una vita ma io non mi sono mai permessa di dare una mia un mio parere personale politicamente perché essendo un ospite ho rispetto per tutti i modi di pensare io ho detto se uno viene con un'idea ben precisa vengo per parlare di quello chapeau tanto dico io ho fatto soltanto ho detto beh insomma io non mi ficco negli affari degli altri mi piacerebbe che gli altri non si ficassero nei miei ma non c'era niente non ha nulla a che vedere con e con gli artisti gli artisti sappiamo tutti chi sono e loro sanno anche chi sono io alla faccia di quelle studiate gente studiate però 48 anni fa non c'erano tutti questi selfie il rapporto con i fan era un po' diverso il rapporto con i fan era diverso arrivavano migliaia di lettere cartoline io mi ricordo ho una bellissima fotografia di mia con mio fratello più piccolo che non c'è più purtroppo e mi avevano operato l'appendicite e il mio fratello mi portava una cosa così di lettere che arrivavano giornalmente sì la gente scriveva oggi è tutto più più piccolo più si fa tutto più in fretta e qualche volta si travisa il pensiero di quello che uno vorrebbe dire poi c'è addirittura gioco del telefono io ti dico mirabella tu dici clarabella e lui alla fine capisce frigorifero e tu non capisci come mai ti sia arrivato questa cosa pertanto il mondo si è l'evoluzione che c'è stata nella 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 società qualche volta è deleteria grazie di essere stata con noi grazie a te grazie a te veramente mauriglio grazie a te 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 gra